Musica Incendio in una mansarda a Gabicemare resterà inagibile fino al riprisino delle condizioni di sicurezza. Musica Adriatic Link, nuovo incontro a Carrara di Fano, residenti preoccupati per la salute e a rischio con il nuovo impianto di trasformazione della corrente alternata. Prana di Carignano, la giunta del sindaco Seri approva il progetto di messa in sicurezza, la gara di appalto entro l'anno e l'avvio dei lavori nel 2023. A Monbaroccio, partiti i lavori di miglioramento sismico di Palazzo del Monte, entusiasta sindaco Petrucci che annuncia dopo 5 anni di chiusura verrà riaperto nella prossima primavera. Musica Gestire un campo di accoglienza in emergenza, il Codma di Rociano Afano, 160 volontari provenienti da tutta Italia per i corsi di alta formazione. Musica Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con l'incendio che si è sviluppato nell'ufficio di un architetto all'interno di una mansarda in Viale Cesare Battisti a Gabicemare. A dare l'allarme è stata la moglie intorno alle 11.30. I vigili del fuoco di Pesaro insieme ai colleghi del distaccamento di Cattolica hanno spento le fiamme che, secondo una prima ricostruzione, sarebbero divampate per cause elettriche. Nessuno è rimasto ferito e intossicato, ma l'ufficio è stato dichiarato inagibile. Sul posto anche i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. I pompieri sono intervenuti anche lungo l'autostrada A14 per un incendio che ha coinvolto un camion. È successo ieri sera poco dopo le ore 20 nel comune di Pesaro in direzione nord. L'autista ne è uscito in leso ma la cabina del mezzo pesante che trasportava merce deperibile è andata distrutta. I vigili del fuoco intervenuti con tre autobotti hanno spento il rogo con il liquido schiumogeno e messo in sicurezza l'area dell'intervento. L'autostrada è rimasta chiusa per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di soccorso sul posto anche la polizia autostradale. E sempre a Pesaro è stato rinvenuto un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L'allarme è scattato intorno agli 11 quando un operaio intento a lavorare con una ruspa per l'ampliamento della strada Montefeltro ha scoperto l'ordigno. Al momento lo scavo è stato richiuso, l'area è stata delimitata con il nastro segnaletico ed è stato affisso un cartello in cui vengono indicate le operazioni di bonifica. Ancora cronaca con un incidente che si è verificato questa mattina alle 11.30 in Viale Romagna a Fano. Un 75enne a bordo di una Vespa Piaggio ha investito un anziano di 84 anni che stava attraversando la strada. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale che sta accertando anche se l'uomo fosse sulle strisce pedonali. Entrambi sono stati portati in codice giallo al pronto soccorso di Fano ma l'84enne è stato poi trasferito all'ospedale San Salvatore ed è in prognosi riservata. Passiamo alla riunione che si è tenuta ieri sera a Carrara di Fano dove Terna ha incontrato nuovamente l'amministrazione comunale e i residenti che hanno ribadito le loro preoccupazioni. La società intanto conferma la sostituzione di tre macchinari. Loro ci parlano di rivalutazione del territorio, ci parlano di cose buone da fare, da investire nel nostro territorio. Sono tutte belle parole ma come si sa queste belle parole possono rimanere nell'aria. Le proteste, i monitoraggi e gli appelli del sindaco e dei residenti di Carrara va avanti il progetto per la centrale elettrica che ha creato malumori e preoccupazioni. Ieri sera a Casa Betlem, Terna ha raccolto le stanze dei cittadini e dell'amministrazione comunale di Fano sulle opere compensative e mitigative correlate alla realizzazione dell'elettrodotto in cavo interrato e della stazione di conversione dell'Adriatic Link finalizzate ad una migliore integrazione delle due infrastrutture con il contesto territoriale. Riguardo alla stazione elettrica esistente, Terna ha confermato che i tre ATR verranno sostituiti entro dicembre e che il compensatore sincrono, attualmente spento, sarà attivato solo in caso di emergenza o di criticità elettriche che dovessero riscontrare nell'area. L'azienda ha inoltre comunicato che il programma di protezione acustica dei macchinari attraverso l'utilizzo di strutture fonoassorbenti è già stato avviato con l'obiettivo di concluderlo entro i primi mesi del 2023. D'altra parte i residenti hanno avanzato le loro richieste e le perplessità relative alla propria salute. Sono mesi che tanto si va avanti a trattative. Non sembra che si smuovano verso quello che noi vogliamo. Ormai il fatto che il progetto si farà è fuori di dubbio. Però ovviamente la sicurezza che le nostre case, le nostre abitazioni e il nostro territorio venga rivalutato come loro dicono, quella non c'è. Per fortuna nel nostro gruppo di residenti c'è una persona molto competente che ci sta aiutando perché ha già affrontato questo problema sulla centrale di Cepagatti in Abruzzo. E proprio in questo incontro l'unica cosa veramente interessante che si è rilevata è il fatto che questi residenti a Cepagatti abbiano avuto dei problemi. Problemi messi in evidenza durante l'incontro e che preoccupano e non poco gli abitanti. Appurato il fatto che non si può in nessun modo stoppare questo progetto ovviamente l'unica preoccupazione che sorge è quanto saremo al sicuro una volta fatto. Per cui cerchiamo a questo punto, attraverso questa persona molto competente che ci sta aiutando e cerchiamo con lui di vedere se è fattibile un trattato, una carta scritta o una qualsiasi trattativa che viene firmata da loro e da noi residenti per far sì che queste cose vengano rispettate e per mettere al sicuro le nostre abitazioni. Si parla di una linea da 380 che passa 120 metri da casa mia. Il signore, il direttore, ha fatto la citazione che una radiosveglia tutti i giorni emette più micro Tesla di una 380 kV come lui ha detto. Ma per fortuna, sempre questa persona molto competente, gli ha anche fatto notare che la radiosveglia a 50 cm da noi già non fa più quel raggio di potenza elettromagnetica. Per cui pensiamo di stare a 100 metri da una 380 che manda continuamente questa energia. Vediamo poi se ci sono questi problemi. Lui è sicura che non ci sono, ma noi non lo sappiamo. Per cui la speranza è che una volta fatto questo lavoro effettivamente vengano rispettate le cose che loro stanno dicendo. Ma sembrano tante belle parole messe sul piatto sbagliato. Questa mattina in Consiglio regionale l'assessore alle risorse idriche Stefano Guzzi ha risposto alle interrogazioni dei consiglieri Ruggeri e Serfilippi sulla messa in sicurezza del torrente Arzilla e del fiume Metauro. Per il primo, ha spiegato Guzzi, è il comune che deve provvedere alla pulizia e alla manutenzione del corso d'acqua nei centri abitati. All'esterno, invece, è condotta dal consorzio di bonifica. Nonostante questo, la regione è intervenuta più volte sul torrente per un totale di 325 mila euro, con lavori che hanno riguardato la pulizia da arbusti e vegetazione e la realizzazione della passerella ciclopedonale vicino alla foce. Attualmente stanno iniziando altri lavori per l'innalzamento dell'argine nel tratto che si estende prima della ferrovia in modo da mettere in sicurezza questa zona che attualmente risulta esondabile. La ditta, che si è giudicata all'intervento, ha aggiunto l'assessore, è impegnata nei territori colpiti dall'alluvione e non appena sarà possibile inizierà il cantiere. Per quanto riguarda invece il fiume Metauro, a proseguita Guzzi, negli ultimi anni sono stati messi a disposizione quasi 2 milioni e 100 mila euro per la sistemazione degli argini e dell'alveo, per la riqualificazione ambientale dell'asta fluviale e il consolidamento delle sponde. Con la ditta che deve eseguire i lavori nel comune di Fano, stiamo rinegoziando i costi non previsti al momento dell'appalto in modo che l'intervento possa riprendere al più presto. La giunta comunale di Fano invece ha approvato l'intervento da 550 mila euro per il consolidamento sulla vasta frana che sette anni fa coinvolse la strada comunale del Bevano a Carignano. I lavori poi verranno avviati nei primi mesi del 2023. Abbiamo approvato in giunta il progetto per il consolidamento del primo straccio di intervento su quello che è stata la frana di Carignano avvenuta nel 2015. Una frana che ricordiamo fu anche molto pericolosa non solo per la strada di percorrenza sotto ma anche per tutti quelli che l'abitavano. Ecco oggi che interveniamo con un progetto significativo di 500 mila euro di cui 4,30 sono finanziate con un progetto ministeriale con un bando del PNR al quale noi ci siamo candidati e con una partecipazione di spesa di 120 mila euro da parte del Comune di Fano. Si tratta di un intervento di regimazione di quelle che sono le acque superficiali in capo al monte per poi procedere alla realizzazione di gabbionate a fianco dei sottoservizi di acquedutto e intercettando quelle che poi sono le acque sotterranee che drenano la collina sovrastante. In questo caso coinvolgeranno nella rete di smaltimento delle acque bianche evitando quindi che vadano a saturare i terreni più a valle quindi che sono già stati coinvolti da questo tipo di frana. Saranno eseguiti interventi di stabilizzazione definitiva delle scarpate mediante l'utilizzo di gabbioni oppure di parte di terreni armati che naturalmente verranno utilizzati come base d'ancoraggio. Questo intervento migliorerà sicuramente la stabilità della collina e di conseguenza la sicurezza anche di tutte le persone che transiteranno sulla strada ma anche dei residenti. Naturalmente è un intervento che pone un'attenzione sempre più importante a quello che è il dissesto idrogeologico per il quale noi ci stiamo candidando in più azioni anche diffuse in città perché questa è una priorità. La tratta dell'ex ferrovia Fanurbino è coperta da rovi e erba alta ormai residenza di animali e insetti di ogni genere. Lo denuncia il segretario dell'Udici Fano Stefano Pollegioni che torna a parlare della tratta per anni al centro dell'attenzione politica con impegni e promesse mai concretizzate ha detto e che nel frattempo è diventata una sorta di foresta tropicale in molti punti a ridosso delle abitazioni senza un programma annuale di interventi di deforestazione, taglio dell'erba e pulizia del sedimento se non in qualche breve tratto. Per il resto prevale il degrado. In via Regolo ha proseguito Pollegioni poco dopo la vecchia stazione di Cucurano alcuni residenti si devono proteggere dagli attacchi di calabruni annidati nei fusti dei pioppi. Qualche tempo fa una persona che è stata punta da uno di quegli insetti ha rischiato la vita e si è salvato grazie all'intervento tempestivo dei sanitari. Il pericolo segnalato all'ente ferrovia ad oggi non ha avuto risposta. Se quella tratta è destinata a diventare una savana a cielo aperto ha concluso Pollegioni allora vale la pena rivalutare le proposte fatte nel passato perché sia utilizzata come percorso ciclabile e pedonale. Adesso le vostre segnalazioni che ci portano in via al Cide De Gaspari 24 a Fano dove una reporter di strada segnala un tombino condominiale pericoloso privo di copertura. Sono caduta all'interno ha raccontato la telespettatrice e ho riportato una contusione ed escoriazioni ma se ci fosse stato un bambino l'esito sarebbe stato tragico. Ho informato l'amministratore condominiale aggiunto pregando di sistemarlo però dopo 16 giorni ancora non è intervenuto nessuno. Ci spostiamo ora a Monbaroccio dove sono cominciati i lavori di miglioramento sismico di Palazzo del Monte. Sono partiti una decina di giorni fa i lavori all'interno dello storico palazzo alle porte del borgo medievale di Monbaroccio antica dimora del matematico e filosofo Guido Baldo del Monte l'edificio del XVI secolo è chiuso dal 2017. In quegli anni infatti la passata amministrazione pensò di procedere ad un adeguamento sismico quando vista la storicità del palazzo sarebbe stato sufficiente un miglioramento sismico. L'investimento complessivo è di 650 mila euro cofinanziato dalla regione per circa un terzo. Oggi con questi interventi riusciremo a far sì che Monbaroccesi e non solo chi vorrà venirci a trovare potrà in primavera rivisitare Palazzo del Monte nel suo splendore, nei suoi musei, nella sua storia, nella sua cultura un giardino che insomma parla da solo in un palazzo che per noi è riferimento culturale. Avevamo deciso come amministrazione dal principio di intervenire sulla parte culturale della nostra storia prima che ancora sulle asfaltature e oggi ne abbiamo la riprova. A questo intervento naturalmente si stanno aggiungendo degli altri domani inizieremo con un intervento su Via Turlo che è una bretella fondamentale per il nostro territorio in particolare per i mezzi pesanti e per coloro che da Fano devono transitare su Pesaro con un intervento di circa 150 mila euro andremo a migliorare quella che è la viabilità Anche lì un cofinanziamento regionale di 100 mila euro, 50 mila euro di forze proprie, quelle comunali A questi si integrano altri 150 mila euro di intervento di discesso idrosiologico che stiamo svolgendo proprio qui davanti in strada panoramica un intervento che chiedeva già da anni la messa e l'avvio dei lavori e anche lì sono già partiti i lavori, 30-40 giorni dovremo dare sicurezza a quel tratto di viabilità A questi si aggiungono altri interventi per 70-80 mila euro per la messa in sicurezza di Via Pontaccio per i lavori pubblici dunque si tratta di oltre un milione di euro di investimenti Sindaco e a proposito di storie di Monbaroccio oggi partirà per Roma Partiamo per Roma dove questa sera saremo ospitati al Cinema Troisi al Festival del Cinema di Roma dove presenteremo il nostro docufilm un docufilm che ha cominciato la sua storia qualche anno fa, addirittura nel 2009 quando le scuole cominciarono a interfacciarsi con quello che è il percorso della memoria per poi far sì che in questo circuito con l'intervento delle scuole con l'intervento dei frati, dei francescani minori quindi con il Beato Sante, le scuole, la cultura, l'amministrazione è nato un libro, Siamo vivi, siamo qui, che oggi può diventare un film In questo percorso c'è un documentario che è stato predisposto che è stato valorizzato circa un mese fa presso lo sperimentale di Pesaro e ci inseriamo anche in un contesto particolare quello del rastrellamento del ghetto tedesco, del ghetto ebraico a Roma nel 16 ottobre del 43 quindi in quel contesto i nazifascisti riuscirono ad accedere alle liste dell'anagrafe del comune di Roma cosa che non avvenne a Milano e quindi da qui tutto il percorso della famiglia Sarano a Milano si salvarono in tantissimi a Roma purtroppo non succedete lo stesso e quindi ci tenevamo a essere a Roma, ci siamo e Monbaroccio a Sarnella Capitale Torniamo a Fano dove lo scorso fine settimana si sono tenuti corsi specialistici per gestire un campo di accoglienza in emergenza presenti circa 160 volontari di protezione civile provenienti da ogni parte d'Italia Tre giornate di esercitazioni esercitazioni, decine di volontari in campo elezioni sia di pratica che di teoria si è svolto anche quest'anno nell'area del Codma di Rociano il tradizionale appuntamento con la formazione per la colonna mobile che ormai da molti anni caratterizza l'attività della Federazione Italiana Ricce Trasmissioni i partecipanti sono stati ospitati nel polo formativo di Fano grazie alla gestione del Cibi Club Mattei presieduto da Saverio Livi Ogni anno la Federazione Italiana ci fa dono perché per noi è veramente un dono di organizzare il training qui a Fano dove ci sono anche il deposito della Federazione per il Centro Italia e quindi noi siamo onerati di ospitarli come sempre si dividono in team abbiamo il team cucina come vedete alle spalle la logistica la segreteria piuttosto che il team radio e arrivano qui da tutta Italia siamo circa 160 suddivisi in gruppi volontari esperti, formatori e volontari nuovi che dopo questa formazione entreranno in un team per gestire in pratica la pronta partenza della colonna mobile e per noi è un onoro ospitarli e sicuramente anche i nostri ragazzi fanno esperienza maggiore esperienza per arrivare laddove serve e necessita la protezione civile in aiuto alle istituzioni laddove mancano braccia le associazioni locali che fanno parte della Federazione Nazionale anche recentemente hanno operato nei comuni alluvionati delle Marche attività di intervento fondamentali per aiutare le popolazioni e al tempo stesso esperienze che i volontari del CB Club Mattei hanno potuto trasmettere ai loro colleghi inizio subito chiedendo un po' scusa ai cittadini di Fano perché ovviamente circa 160 persone che fanno attività di protezione civile in questi giorni qualche disagio può darsi che l'abbiamo dato alla popolazione di Fano per cui vi chiedo sicuramente scusa per noi è importantissimo, era importantissimo e ancora tuttora per il rilancio uscire da questi due anni di stop della pandemia per cui ritrovarsi noi siamo rimasti in contatto sicuramente pronti per tutte le emergenze però ritrovarsi tutti spalla a spalla per lavorare è stata una cosa importante qui oggi a Fano nella vostra città ci sono circa 160 ragazzi e ragazze che arrivano dalla Val d'Aosta fino alla Sicilia e ovviamente è una cosa bellissima ritrovarsi finalmente a lavorare insieme speriamo sempre in esercitazione presente sabato mattina anche il sindaco di Fano Massimo Seri il quale ha citato i cambiamenti climatici che provocano sempre più di frequente fenomeni atmosferici a cui non eravamo abituati sappiamo che in determinati momenti nell'emergenza la differenza la fanno i primi soccorritori coloro che portano aiuto e intervento e la protezione civile è un strumento, una risorsa straordinaria per il paese e per le nostre comunità questi momenti di formazione sono fondamentali perché anche se questa protezione civile è composta da volontari ma sono volontari di altissimo livello professionale e in questi interventi, in questi percorsi la professionalità fa la differenza bisogna essere preparati, sempre aggiornati e soprattutto pronti e su questo insomma partendo dalla nostra realtà ne abbiamo una dimostrazione avuta sul campo quindi come sindaco mi sento anche di esprimere la gratitudine e il ringraziamento per il lavoro, per il supporto e per la loro presenza che non fanno mai mancare Alla Mediateca Montanare di Fano si svolgeranno quattro incontri durante i quali altrettanti docenti presenteranno i libri da loro scritti Filippo Pucci Nel segno della parola è il titolo della rassegna di libri scritti dai professori del liceo Nolfi Appolloni di Fano a presentare l'iniziativa il preside dell'istituto Samuele Giombi che ha ricordato come anche la scuola può essere un luogo dove si elabora e si produce cultura La scuola oggi è presa da tante pratiche di carattere amministrativo, burocratico talvolta anche di un certo pedagogismo d'accatto che la sovrastano Io sono convinto che la scuola se è possibile debba tornare ad essere un luogo di produzione intellettuale Questa è un'idea molto forte che io da tanto tempo ho in animo e che cerco di condividere con i docenti della scuola Quattro le pubblicazioni che verranno presentate nelle giornate del 20 ottobre, 10 e 24 novembre e 15 dicembre Appuntamenti che si svolgeranno alle ore 17.30 all'interno della Mediateca Montanari di Fano Gli appuntamenti nascono da alcuni libri che alcuni docenti della scuola hanno di recente pubblicato che rendono un po' conto delle anime anche diverse della nostra liceo che è un liceo umanistico Quindi andiamo da un ultimo volumetto di filosofia scritto di recente da un nostro docente, il professor Iacchini che ha anticipato attraverso la sua pagina Facebook alcune cose che poi ha voluto riassumere in un libro agile, dinamico che sono queste pillole di filosofia che ripercorrono un po' la storia delle idee, del pensiero filosofico in modo per pillole in modo appunto sintetico e fruibile in maniera molto immediata Poi ci trasferiamo su un ambito diverso perché è l'ambito appunto della narrativa come questo scritto dalla nostra docente di spagnolo Artiglio di Leone della professoressa Panizza che è un agile racconto diciamo così intrigante, significativo, stimolante Poi sempre in campo narrativo abbiamo questo altro testo dell'altra nostra docente, la professoressa Cerni che insegna lettere all'indirizzo artistico che si presta anche per una fruizione per un pubblico diciamo adolescenziale oltre che adulto Infine, ha aggiunto Giombi, l'ultimo libro è dedicato alla poesia intitolato Lezioni di meraviglia curato dal professore di greco e poeta Daniele Ricci Presente alla conferenza anche l'assessore comunale Samuele Mascarin Sono quattro appuntamenti promossi dal liceo Nolfi Apolloni di Fano in collaborazione con il sistema bibliotecario del comune di Fano che ci accompagnerà in una lettura della contemporaneità molto interessante e che ancora una volta consentirà in particolare alla Mediateca Montanari di poter essere punto di riferimento per la cultura e la socialità della nostra città E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale Vi ricordo che potete inviarci le vostre segnalazioni al numero di telefono 338-4968-250 è importante anche che ci inviate foto o video relativi appunto a questa segnalazione Grazie per averci seguito e ci vediamo domani